E a proposito di politica complice, i partiti ne hanno fatta un'altra delle loro, bocciando probabilmente in maniera definitiva la proposta dell'onorevole Giorgia Meloni di ridurre le pensioni d'oro degli onorevoli ad un tetto non superiore a 10 volte il minimo, intorno ai 5 mila euro netti al mese, un tetto ragionevole, una riduzione accettabile, ma la casta ha fatto quadrato e in commissione ha detto di no, è stata bocciata proprio da quelli che hanno bloccato le pensioni da 1.400 euro e tra questi quel PD, quel Partito Democratico che per dichiararsi rinnovato ha rottamato tanti privilegi, ma si è dimenticato quello più importante, insomma la solita ipocrisia, che non ha colore perché è di destra e di sinistra. E l'ultima chicca dei politici viene dal Piemonte, il signore che vedete nella foto, l'avvocato Roberto Cota, ex presidente tra poco della regione Piemonte, bocciato dal Tar per via di una lista che ha raccolto firme false. Ha dato un bel calcio Cota a tutti i pensionati, a tutti gli esodati, a tutti gli italiani, insomma lui che è italiano non si considera perché è un padano. Prima di dire addio alla poltrona ha fatto introdurre nella finanziaria regionale piemontese un emendamento per il quale i consiglieri regionali possono ritirare subito i soldi del vitalizio, rinunciando a quello che spetterebbe una volta raggiunta l'età pensionabile. Ma abbiamo bene capito tutti, il PD e tutti gli altri partiti alla Camera bloccano le pensioncine da 1.400 Euro, bocciano la proposta Meloni che voleva ridurre i vitalizi d'oro dei deputati e poi a Torino i leghisti. Si burlano degli italiani che lavorano autoattribuendosi contributi e vitalizi subito, lo scriviamo tutte con lettere maiuscole, senza aspettare niente e nessuno. E allora nessuno si meravigli se i parlamentari del Movimento 5 Stelle fanno interventi di fuoco alla Camera e al Senato e se i forconi arrivano fino a Piazza Montecitorio. È questa dannata casta che non vuole sentire niente e nessuno e va avanti per la sua strada. E allora è alle urne che dovrà essere punita, a cominciare dalle prossime europee.